Cosa hanno in comune chitarristi come David Gilmour, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Rebogen, John Mayer? Qual è il loro segreto per improvvisare degli assoli che funzionano e quali sono le cose che dovresti e soprattutto non dovresti fare? In questo video ti spiego i loro 5 segreti per un grande assolo. L'errore che fanno molti chitarristi è quello di iniziare un assolo con troppe note. L'assolo infatti rappresenta una storia, c'è un inizio, uno sviluppo, un crescendo e poi una risoluzione. L'importante infatti è non dire tutto subito, non giocarti immediatamente le carte migliori. Sentiamo infatti come inizia BB King un tipico assolo. Hai sentito quindi la frase molto breve, poche note e soprattutto facili da ricordare. Semplicità. La frase poi si sviluppa. E' molto meglio fare una frase introduttiva, orecchiabile, semplice, di poche note, piuttosto che ad esempio questo. La frase di BB King funziona perché è una frase semplice, efficace, ad effetto e poi cresce. Facciamo uno sviluppo all'interno della nostra storia. Mi raccomando quindi ricordati di non svelare tutto all'inizio. Numero due, il fraseggio. Che cos'è il fraseggio e soprattutto come spiegare cosa è il fraseggio. La cosa migliore da fare è ascoltare un esempio. Prendiamo la stessa frase di prima. Più avanti magari continua la solo con un crescendo, con una frase diversa. L'importante è che l'ascoltatore capisca ciò che vuoi raccontare. Ma che cos'è che determina durante la solo il fraseggio? Non sono a nient'altro che quelle pause e quei silenzi che abbiamo inserito. Pausa, pausa. Pausa, pausa. E poi continuiamo con una frase successiva. È un po' come il linguaggio parlato. Prova a parlare con un amico senza utilizzare i segni di punteggiatura. È veramente una cosa inascoltabile. Lo stesso avviene con la chitarra. Mi raccomando, ricordati, fai delle frasi scandite, brevi, semplici e chi ti ascolta ti ringrazierà. Numero tre, dinamica. Questo è uno degli argomenti più importanti da capire e da assimilare. È proprio l'uso della dinamica che ti permette di riconoscere un chitarrista professionista da uno mediocre. Ma che cos'è la dinamica? Ne ho parlato molto nel mio corso di chitarra blues solista. Se ti interessa approfondire, ti lascio il link qui sopra. Non è altro che il range sonoro tra il silenzio e il suono più forte che possiamo ottenere con lo strumento. È anche detto range dinamico. Ma proviamo a sentirlo proprio su questa stessa frase. Potrei iniziare suonando molto piano Oppure forte Ovviamente chi ascolta percepirà una diversa sensazione in base a come utilizziamo la dinamica. Ma la dinamica non deve essere soltanto piano o forte. Può essere anche un misto delle varie possibilità sonore che ci dà lo strumento. Ad esempio proviamo a suonare questa frase con una dinamica molto elevata. Toccando le corde molto piano per poi crescere progressivamente. Proviamo adesso invece a fare l'inverso. Partiamo molto forte e poi cadiamo di volume. Alla prossima Quindi come puoi sentire varare l'intensità arricchisce molto il nostro fraseggio. Come esercizio puoi fare proprio questo. Prendi una frase e la fai crescere di intensità e poi piano piano diminuire. Come esercizio puoi sentire varare l'intensità arricchisce molto il nostro fraseggio. Come esercizio puoi sentire a gara? Come esercizio puoi sentire varare l'intensità arricchisce molto il nostro frutto. Dobbiamo pensare al range dinamico come una curva sinusoidale che sale e che scende, quindi mi raccomando non suonare mai la stessa frase sempre con la stessa dinamica, variala e ti assicuro che la tua improvvisazione cambierà da così a così. Numero 4, il vibrato, è una sorta di piccolo bending eseguito con un movimento ascendente o discendente della corda. Diciamo che il vibrato fa parte del suono distintivo di ogni chitarrista, diciamo la sua firma, è quindi un elemento molto importante che devi imparare ad utilizzare nella tua improvvisazione. Proviamo a suonare quindi una frase prima senza e poi con il vibrato. Puoi sentire tu la differenza con e senza il vibrato, mi raccomando però non utilizzare sempre la stessa intensità, non dobbiamo infatti vibrare sempre allo stesso modo, possiamo fare dei vibrati più lenti o più energici. E' un abbellimento tecnico che va inserito solitamente alla fine di ogni frase, però sentiti libero anche di non metterlo e di fare una sorta di variazione tra frasi con e senza vibrato. Quinto punto è la ripetizione di una frase. Ogni chitarrista professionista sa infatti usare la ripetizione per arricchire il suo fraseggio. Proviamo infatti a sentire che sensazione ci dà ripetere la stessa frase più volte. L'importante è sempre suonare una frase molto semplice, di poche note, facile da memorizzare e da ripetere. Ad esempio puoi prendere il rock riscene, ho parlato molto nel mio corso di chitarra rock solista, ti lascio il link qui sopra se vuoi approfondire. Puoi ripetere la frase quanto vuoi, in quel momento infatti starai portando alta l'attenzione di chi ti ascolta, stai facendo un crescendo. Alla fine del crescendo dovrà esserci però una variazione per andare verso la risoluzione, mi raccomando. Infine un consiglio bonus, utilizza i double stops. Grandi artisti come Gilmour, Hendrix, B.B. King, John Mayer, Steve Ravogan, Clapton, tutti quanti hanno fatto ampio uso dei double stops. I double stops si eseguono suonando semplicemente due note, ad esempio della pentatonica. Prima a suonare una frase molto semplice soltanto con le note singole. Parliamo adesso invece a mettere dei double stops. Come vedi utilizzando i double stops possiamo creare variazione e tensione nell'assuolo, quindi mi raccomando abituati ad inserirli. a mettere dei libri. bene! Grazie a tutti. Ogni volta che suoni mi raccomando cerca di registrarti e di risentire quello che è appena suonato. Solo così potrai infatti renderti conto se stai eseguendo bene i consigli che ti ho appena dato. Analizza ad esempio il traseggio e la dinamica. Sta suonando troppo forte, sta suonando troppo piano. La mia frase ha una variazione dinamica. E il vibrato è troppo nervoso, troppo incisivo, troppo morbido. Ho utilizzato i double stops, ho ripetuto le frasi, ho creato tensione durante il mio solo. Questo è il metodo pratico per imparare ad improvvisare. Ovviamente l'ascolto è fondamentale. Senti i chitarristi che ti piacciono di più, ascolta il loro fraseggio, quando mettono le pause, quando fanno il vibrato, se mettono dei double stops. L'ascolto è fondamentale per diventare un grande chitarrista. Fai tesoro quindi di questi consigli e vedrai che la prossima volta sarai sicuramente più consapevole. Bene ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi raccomando, lasciatevi un mi piace, doppio mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao e buona musica! Grazie a tutti!